È la seconda volta che registro questo video perché la prima il microfono ha deciso di lasciarci, di abbandonarci, di mollare, quindi speriamo che la seconda volta invece sia quella buona, doppia come la doppia partita che si prepara a giocare la Juventus contro l'Inter, dato che non sarà una sfida di eliminazione diretta, bensì una gara tra andata e ritorno. E da qui voglio farvi una domanda, meglio affrontare l'Inter in una doppia gara come questa in semifinale o avreste preferito trovarla invece in finale? Attenzione che dall'altra parte invece Fiorentina e Cremonese sembra una partita scontata ma se la Cremonese è arrivata a Filly un motivo deve esserci, quindi la Juventus deve preparare al meglio questa semifinale e non cercare di sottovalutare eventualmente qualsiasi avversario in caso di finale, ma lo stesso discorso lo deve fare l'Inter perché sono due squadre veramente che non devono sottovalutarsi già a partire da questa sera perché sono due squadre che a modo loro hanno dei pregi e a modo loro hanno dei difetti e infatti credo che le stagioni di Juventus e Inter siano abbastanza travagliate. Quella invece di Simone Inzaghi penso che sia una stagione abbastanza negativa, infatti in questo momento anche i tifosi, l'opinione pubblica comunque si sta facendo una gran chiacchiera collettiva su quello che sarà l'anno prossimo e addirittura che Simone Inzaghi potrebbe non terminare questa stagione con l'Inter in caso di mancato accesso a determinati obiettivi come appunto può essere la finale di Coppa Italia che passa dalla doppia sfida con la Juventus, la qualificazione alla Champions del campionato perché non dimentichiamoci che in questo momento l'Inter con i 15 punti restituiti da Juventus sarebbe fuori dalle prime quattro e quindi fuori dall'Europa che conta, il prossimo anno andrebbe a giocare l'Europa League e ovviamente in questo momento l'Inter ha una ghiotta opportunità di arrivare in semifinale di Champions League anche se dovrà cercare di non sottovalutare il Benfica e lo dice uno che c'è già passato e ha già vissuto il dominio, lo strapotere tecnico e tattico degli uomini allenati dall'allenatore della squadra portoghese, non mi ricordo il nome, in questo momento mi viene in mente Schmidt ma non mi ricordo se esattamente è lui oppure no ma di questo facciamo un passo avanti, sono cose che non ci interessano più dato che la Champions per noi è già andata oggi vorrei in realtà fare un piccolo riepilogo di quelli che sono i dati relativi alla Coppa Italia di Juventus e Inter per ricordarci quelli che sono stati i due percorsi che hanno portato le squadre a giocarsi questa semifinale di Coppa infatti la Coppa Italia è sempre una competizione un po' particolare, corta per le squadre di livello che sono teste di serie vanno già a giocarsi delle partite secche in casa contro squadre di più basso livello quindi a volte le sorprese vengono meno in questa competizione tranne dall'altra parte la Cremonese che ha fatto direi abbondantemente il suo e quindi cerchiamo di capire quella che per Simone Inzaghi è la logica nelle scelte di formazione in questa competizione De Vrij e Onana sono i due giocatori che hanno giocato di più ieri in live su Twitch su Calcio Unlimited quindi la nostra rubrica settimanale di riepilogo per quanto riguarda il calcio europeo ad alti livelli qualcuno mi aveva fatto una domanda dicendomi ma secondo te domani giocherà Onana o Andanovic? Beh, fino adesso ha giocato Onana quindi sembra quasi che sia stato scelto come portiere di Coppa e quindi mi immagino che anche questa sera verrà schierato lui al posto di Andanovic insieme appunto a De Vrij che è il giocatore, il difessore centrale, un giocatore in movimento che ha disputato più minuti per l'Inter in questa competizione quest'anno Lautaro il terzo che ha segnato un gol in due partite, 205 minuti l'Inter non è a 180 minuti di totale in due partite perché una delle due l'ha vinta dopo i tempi supplementari poi c'è Mkhitary anche l'altro giorno sembrava iperattivo con 157 minuti e a cadenza tutti gli altri Aslani 139 minuti significa che comunque Inzaghi crede in lui in questa Coppa e poi possiamo notare alcuni giocatori solitamente titolari per l'Inter come Barella che ha giocato soltanto 90 minuti quindi una partita su due, Dzeko soltanto 72 minuti, Lukaku soltanto 71 minuti come Cialanoglu addirittura Bastoni 66 e Skriniar soltanto 7 che in questo momento è infortunato quindi attendiamoci anche magari qualche rotazione per la partita di questa sera anche se magari già dalla semifinale Inzaghi potrebbe decidere di cambiare il modus operandi e il modus di ragionamento per l'Inter tre gol segnati in due partite, uno da Darmian, uno da Cerbi, uno da Lautaro Cerbi e Darmian sono dei veri e propri paletti degli uomini di fiducia di Simone Inzaghi soprattutto a Cerbi che l'ha avuto pure alla Lazio e Lautaro Martinez dovrebbe essere il pericolo guardando un attimino i minuti disputati da Dzeko e da Lukaku viene naturale pensare che la logica di Inzaghi sia far giocare Lautaro e Correa in questa competizione però stiamo attenti perché potrebbero giocare anche altri ieri Allegri questa cosa ha parlato facendo una breve analisi di quelle che sono le caratteristiche tecniche degli attaccanti dell'Inter queste sono le partite che ha affrontato l'Inter per arrivare in semifinale di Coppa Italia in casa contro il Parma, in casa contro l'Atalanta la prima vinta per 2-1 dopo i tempi supplementari con Gigione Buffon in porta la seconda vinta per 1-0 nei confronti dell'Atalanta le ha giocate entrambe in casa a San Siro 40.000 spettatori la prima, 49.000 la seconda e questo già sarà un dato che andremo a vedere essere in controtendenza rispetto a quello della Juventus e dovrebbe darci un'indicazione seria anche per quando giocheremo il ritorno in casa loro il 26 di aprile e attenzione perché giocare una volta il 4 di aprile una volta il 26 di aprile che cosa ci racconta? ci racconta che l'Inter che affronteremo stasera e l'Inter che affronteremo la prossima volta potrebbero essere due squadre completamente diverse con uno stato diverso e magari anche un'ambizione diversa così come la Juventus quindi è bello vedere che il giro di 22 giorni tutto può cambiare ma quando vai a affrontare il mese decisivo per la stagione dopo è lì che le squadre vengono fuori è lì che si capisce qual è il vero grado, il vero livello di una rosa la Juventus, portiere di Coppa Mattia Perin insieme a Danilo i due giocatori che hanno giocato ogni singolo minuto in Coppa Italia Danilo non mi stupisce perché campionato Champions Europa League Coppa Italia lui le gioca sempre tutte, non salta mai niente poi c'è Fagioli, poi c'è Locatelli, poi c'è Moise Ken, poi c'è Federico Chiesa sorpresa Federico Chiesa che ieri Allegri ha detto è recuperato parte dalla panchina ma Chiesa è uno dei giocatori più impiegati da Allegri in Coppa Italia poi Alexandro che non giocherà titolare ce l'ha già svelato Allegri poi abbiamo Costi, Cilugani, Paredes, bla 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 per quanto riguarda la Juventus Moise Ken, Federico Chiesa e Bremer sono i tre capocannonieri Chiesa e Ken nella prima partita la seconda decisa da 1-0 il gol di Bremer quindi Chiesa è il nostro trascinatore in questa competizione Moise Ken al piede caldo l'abbiamo visto anche con l'Elas Verona bisognerà capire se questa sera potrà trovare spazio dato che comunque è anche squalificato e la prossima partita con la Lazio Roma non potrà giocarla per quanto riguarda la Juventus 2-1 contro il Monza con 25.000 spettatori allo stadio per gli ottavi e 1-0 proprio con la Lazio che torna fuori corsi e ricorsi storici soltanto 21.000 spettatori controtendenza rispetto anche se vogliamo al dato più alto del Monza dobbiamo anche migliorare da questo punto di vista qua ma sto notando che ultimamente il tifoso Juventino ha sempre più voglia di andare allo stadio dove tra l'altro stasera dovrebbe trovare nuovamente Alessandro Del Piero secondo Luca Monblano due indizi potrebbero fare una prova non lo so sospetta questa presenza di Del Piero allo stadio con così tanta frequenza e allora vorrei parlare anche di una presunta probabile formazione dico presunta perché me la vado un pochino ad inventare a seconda di quelle che dovrebbero essere le linee guida anche la conferenza stampa di ieri di Allegri e gli indizi che ha voluto darci Perini in porta portiere di Coppa Cesni ha fatto zero minuti in questa stagione io ho ipotizzato Danilo Bremer e Rugani perché ieri Allegri secondo me ha lasciato una porta aperta per quanto riguarda Rugani in caso contrario potrebbe giocare Gatti a seconda di Gatti Rugani Rugani giocherebbe sul centro-sinistra Gatti sul centro-destra Danilo lago della bilancia che gioca ovunque centrocampo titolare con Locatelli Rabiot e Fagioli Quadrado e Kostic sugli esterni e di Maria Evlaovic che secondo me sarà la coppia d'attacco titolare anche se in questo momento in Coppa Italia hanno giocato poco di Maria veramente pochissimo 28 minuti 29 minuti una mezz'oretta nelle prime due partite però è ovvio che ora che il grado di difficoltà si alza sia Allegri e Kenzaghi potrebbero appunto come dicevo prima necessitare a fare dei ragionamenti differenti dato che contro l'Elas Verona Milik e Ken sono partiti titolari viene a pensare che di Maria Evlaovic siano stati tenuti a riposo proprio per una gara di questo tipo molto molto importante e quindi niente ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti come la vedete se secondo voi la Juventus potrebbe già chiudere i giochi in questa partita secondo me no secondo me sarà complicato come vi dicevo nel video del pronostico qualche tempo fa secondo me alla fine la Juventus spasserà il turno arriverà in finale di Coppa Italia ma lo farà all'interno di una doppia gara molto molto tirata e non sarà un risultato particolarmente rotondo nel giro di due partite come vi dicevo prima però attenzione che da qui ai prossimi 20 giorni tutto può cambiare e già da stasera servirà una partita di un certo tipo voglio cercare di mantenere il sorriso perché non è scontata non è facile vedo un po' troppa tranquillità io non sono così tranquillo ma ce la possiamo fare ciao